Il Comune Rustico è una poesia tratta dalla raccolta Rime Nuove di Giosuè Carducci. Abbiamo letto parecchie poesie in classe e non sono in classe, tratte da questa raccolta che è una delle più importanti, forse quella veramente della maturità di Giosuè Carducci. Vedete che abbiamo già fatto 11 video su YouTube su Carducci, uno di introduzione a Carducci, uno sulla poesia per Vincenzo Caldesi, una sulla poesia Traversando la Maremma Toscana, un video della prima parte di Davanti San Guido, un video della seconda parte di Davanti San Guido, invece un altro video con due poesie, San Martino e Nevicata, una su Funere Mersi Tacerbo, due su Pianto Antico, una su Alla stazione in una mattina d'autunno, e poi ancora Dinanzi alle Terme di Caracalla e Alla vittoria. Quindi questa è la tredicesima video-lezione su Giosuè Carducci. È un poeta sicuramente un po' controverso, diciamo la verità. Anche oggi osserveremo alcuni dei suoi limiti, ad esempio a livello soprattutto ideologico, ma è indubbio che è stato un grande poeta e che vale assolutamente la pena di leggere le sue poesie. Questa poesia è stata scritta nell'agosto del 1885 ed è una fra le tante di argomento storico. Abbiamo visto, per esempio, ricordate, Dinanzi alle Terme di Caracalla, ma anche Alla vittoria, insomma, tante sono le poesie di argomento storico, per non parlare dell'attualità, nella poesia per Vincenzo Caldesi, che ci mostrano, insomma, tutte le passioni, le passioni risorgimentali, ad esempio, di Giosuè Carducci. Era un tipo passionale questo poeta. Il poeta rievoca un momento particolarmente solenne nella vita di un libero comune medievale che viene rappresentato appunto in modo ideale, quasi un momento della storia, un luogo idillico comunque da perpetuare. È l'afflato democratico, dicevamo, anche della partecipazione collettiva di un popolo alle vicende e anche alla res pubblica, che lo ha portato a scrivere una poesia del genere in sintonia con quello spirito risorgimentale di cui abbiamo parlato prima. Però, come già vi avevo anticipato, questo lo porta indubbiamente a storpiare un po' la storia o quantomeno a travisarla in base ai propri preconcetti, pregiudizi. Però, la cosa che a lui interessa è che i cittadini si possano riunire e prendere le decisioni riguardanti la vita della propria comunità. Carducci offre un'immagine del Medioevo solare e aperta contrapposta, come vedremo nella stessa poesia, alla immagine consueta che lui stesso condivide, quella illuministico giacobina, di un Medioevo oscurantista e arretrato. C'è l'idealizzazione anche della natura, ecco, in questa poesia. E lui, quando parla di natura, è intriso sia di classicismo, quindi prima vi ho usato quel termine idillico, quindi può far venire in mente una idealizzazione della natura che viene descritta come un luogo perfetto, incontaminato. D'altra parte, però, la natura può anche essere vista in senso quasi, oserei dire, romantico, perché partecipa ai sentimenti dell'uomo. Il Medioevo, che qua viene tratteggiato, è fatto di virtù civili e di virtù private, di una vita serena immersa nella natura, non di streghe e superstizioni. Ricordiamoci, infatti, che pochi anni prima Carducci aveva composto l'inno a Satana. Il valore indirettamente polemico della fantasia di Carducci emerge se consideriamo che il comune da lui rappresentato è un centro agricolo, di contadini e di pastori. Non è quindi il comune dei mercanti, degli artigiani. In realtà erano questi i comuni prevalenti nel Medioevo italiano tra il 200 e il 300, cioè tra il XIII e il XIV secolo. I comuni dei mercanti, dei banchieri, tra l'altro spesso anche comuni o in lotta fra di loro, oppure con lotte feroci, violentissime, all'interno. Pensate alle lotte fra le fazioni. Ad esempio, Dante che viveva in quel periodo odiava le liti interne ai comuni. Invece ci presenta un comune molto particolare, quasi frutto più della fantasia di Giosuè Carducci che non ovviamente di una conoscenza storica ferrata. Bene, la poesia si presenta a noi con strofe di sei endecasillabi che sarebbero quasi, però, formate da due terzine. Però, lasciamo questa strofa di sei endecasillabi, lasciamola così, anche perché, a parte la divisione in due terzine, c'è da dire anche che c'è una certa divisione metrica tra i primi due versi che sono accoppiati con una rima baciata, quindi A-A, e gli altri quattro versi che invece sono in una rima incrociata, B-C-C-B. Bene, iniziamo pertanto a leggere la poesia Il Comune Rustico di Giosuè Carducci, prima strofa. Anzi, devo anticipare una cosa. Siccome il periodo della prima strofa non si conclude all'interno di quei sei versi, siamo costretti a leggere almeno il primo verso della strofa successiva, con il quale si concorre, anzi, addirittura che il verso, possiamo dire, della proposizione principale di questo primo periodo. O che tra faggi, abeti e erma sui campi, smeraldini, la fredda ombra si stampi, al sole del mattin puro e leggero, o che foscheggi immobile nel giorno, morente sulle sparse ville intorno, alla chiesa che prega, o al cimitero che tace, o noci della carnia, a Dio. Ecco, come vi stavo anticipando, infatti, la proposizione principale è proprio alla fine di questi sette versi. O noci della carnia, addio. Cioè, si rivolge il poeta quasi personificando gli alberi, i noci, gli alberi di noce, della carnia. La carnia corrisponde a una parte del Friuli attuale, no? Quindi è un posto dove Carducci soleva andare in villeggiatura e che a lui piaceva particolarmente perché è un posto poco abitato, ecco, una regione molto incontaminata, possiamo dire, no? E' quindi piacevole per distendersi dalle tensioni che invece magari provava a, non so, a Bologna o comunque in generale nelle città che frequentava dove anche aveva importanti contatti. Era un insegnante probabilmente universitario, Giosuè Carducci. Quindi, sia che, o che vuol dire, sia che tra faggi e abeti erma sui campi, cioè, sia che, insomma, tra i faggi e gli abeti, altri alberi, la vostra ombra, la fredda ombra vostra degli alberi di noce, si proietti solitaria, erma, sui campi, si stampi, si stampi erma, si stampi erma. Qui dovete notare, ovviamente, l'ordine invertito spesso delle frasi, abbiamo già detto, degli elementi, dei sintagmi, ecco, perché l'anastrofe è sicuramente una delle figure retoriche più presenti nella poesia carducciana, che risente molto della, per esempio, della poesia leopardiana, anche da questo punto di vista, oltre ai latinismi. C'erano latinismi anche nella poesia di Leopardi, li troviamo lo stesso erma, per esempio, è un latinismo. Poi abbiamo visto la personificazione. Dobbiamo anche sottolineare molti enjammant, soprattutto poi in questo periodo iniziale si moltiplicano gli enjammant, che rompono, quindi, lo scandire logico della frase, perché termina un verso, non c'è corrispondenza fra la struttura metrica, il verso, e la struttura logica, quindi la frase, i sintagmi. Addirittura si spezza un legame forte fra sostantivo e aggettivo. Campi smeraldini, giorno morente. Quindi, come vedete, è tutta un'immagine che piano piano si rende chiara al lettore dipanata lungo un periodo complesso, dicevamo, lungo, che non ha sostanzialmente interruzioni. Ecco, questo enjammant ha anche un po' questa funzione, quasi anche di accelerare il ritmo fino alla fine, al primo punto fermo, che come vi stavo anticipando, arriva solamente dopo sette versi. O alberi di noce della carnia. a Dio. Ecco, a Dio, attenzione, anche se vogliamo, è una frase nominale, no? Quindi, anche la proposizione principale di cui parlavamo prima di fatto non ha neanche il verbo. A Dio, sia che tra i faggi e gli abeti la vostra ombra si proietti solitaria sui campi di colore verde smeraldo, sui campi smeraldini, al primo sole terzo e limpido, al sole del mattin puro e leggero. Ecco, notate anche il troncamento di mattin al posto di mattino. Sia che si stenda cupa l'ombra di questi noci, foscheggi, immobile, al tramonto, nel giorno morente, quindi nel momento in cui il giorno muore, altra personificazione, abbiamo visto le noci, scusate, gli alberi, adesso vediamo il giorno che muore, no? Invece del tramonto. Sui casolari sparsi, sulle sparse ville, attorno alla chiesa, intorno alla chiesa, che prega, o al cimitero, che tace. Ecco, qui ci sono due metodi mie, perché in realtà non è la chiesa che prega, ma coloro che si trovano dentro la chiesa, non sono, non è il cimitero che tace, ma quelli che sono appunto nelle tombe del cimitero che tacciono, che non possono più parlare. Dicevamo che si tratta di una metodimia perché c'è il contenente, chiesa o cimitero, al posto del contenuto, i fedeli o i morti. Erra tra i vostri rami il pensier mio, sognando l'ombre d'un tempo che fu. Quindi, vaga tra i vostri rami, tra i rami, dicevamo, di questi alberi di noce, il pensier mio, il mio pensiero, sognando l'ombre d'un tempo che fu. Quindi, sognando le immagini di un'epoca ormai definitivamente conclusa. Quindi, di fronte a questa realtà piacevole, serena, tranquilla del territorio, della carnia, che addirittura è suggestivo anche quando c'è la foschia, anche quando il sole non è così terzo e limpido, questo permette al poeta di vagare con la mente, di errare con quella, c'è un po' vero di, di lessico leopardiano, oserei dire anche, quindi costruzione delle figure retoriche, della, dell'anastrofe, no? E poi anche, dicevamo, il lessico leopardiano, erra il pensier mio, no? Ci sono echi leopardiani, questo insomma gli permette al poeta di pensare ad un tempo passato che non può ritornare più, è il tempo del comune medievale, non paure di morti ed incongreghe, diavoli goffi con bizzarre streghe, ma del comune la rustica virtù. Qui abbiamo una forte antitesi, una contrapposizione fra il Medioevo, così come lo tratteggiavano, appunto, vi dicevo, nell'Ottocento, in modo particolare, e invece quello che lui ricorda con maggiore trasporto, che è questo comune medievale idealizzato. Anche qui abbiamo una frase nominale, questi ellissi dei predicati rendono come dire, l'espressione molto immediata, quasi istintiva, no? E quindi non così determinata come avviene quando c'è un verbo. Quindi il verbo reggente è veggo, però, ecco, io veggo, attenzione, dovremmo trovarlo forse qualche verso dopo. Ecco, veggo nella stagione, anche in questo caso, come vedete, il verbo che regge tutta quanta la frase che non termina quindi alla fine della sestina, chiamiamolo, alla fine della strofa, ma prosegue nella strofa successiva, si trova proprio verso la fine di questo periodo. Io veggo, quindi vedo, non morti, non paure di morti, nel senso paure di morti è una sorta di inversione fra quello che potrebbe essere il sostantivo e il complemento di specificazione. Per esempio, morti da paura, o morti che fanno paura, non vedo non vedo morti che fanno paura, paura di morti invece inverte quello che diciamo il consueto rapporto che ci può essere fra un sostantivo e un complemento di specificazione. e il complemento di specificazione soprattutto da Carducci viene interpretato spesso in un modo abbastanza creativo e in questo possiamo dire che Carducci è stato maestro anche di uno degli allievi più importanti anzi sicuramente dell'allievo suo più importante cioè di Giovanni Pasquali nero di nubi le paure di morti ci fa venire un po' in mente questa espressione quindi io non vedo morti che fanno paura e in congreghe congreghe è un termine che spesso ha un valore negativo una valenza negativa pensate alla congrega dei politicanti la congrega dei ladri e quindi sottolinea ancora di più la negatività di queste immagini che sono le immagini cupe che nella visione di Giosuè Carducci caratterizzano un medioevo in cui la gente è intimorita appunto paura di morte intimorita dalla morte dai diavoli dalle streghe anche se noi devo dire la verità dal novecento forse addirittura già dall'ottocento in poi abbiamo incominciato a conoscere molto meglio il medioevo quindi senza questi stereotipi molto molto diciamo generalizzanti generalistici quindi un po' superficiali diavoli goffi con bizzarre streghe diavoli quindi mostruosi uniti a streghe bizzarre in queste riunioni così inquietanti le congreghe ma del comun la rustica virtù io vedo quando vedo questo paesaggio così affascinante della carnia quindi del friuli del friuli ecco ecco io vedo non queste immagini rivedo nella mia mente non queste immagini inquietanti del medioevo ma la la virtù rustica proprio nel senso originario contadina potremmo dire del comune medievale accampata all'ombra accampata all'opaca ampia frescura che vuol dire quindi riunita nell'ampia radura ombrosa nella stagione della pastura quindi la stagione del pascolo che potrebbe essere la primavera avanzata oppure l'estate dopo la messa il giorno della festa mi sembra di vedere quando vedo ad esempio questi prati bellissimi mi sembra di vedere la comunità la gente insomma di paese che si riunisce dopo la messa la domenica mi sembra di vedere ho questa immagine proprio impressa dalla mente il console dice quindi il console dice cioè il console sarebbe il massimo magistrato di un comune ecco anche in questo c'è una sorta di idealizzazione non solo del comune medievale ma anche dell'epoca romana e questo l'abbiamo visto anche con la poesia vittoria che abbiamo alla vittoria scusate che abbiamo letto recentemente dinanzi dinanzi alle termine di caracalla di come fosse legato alla cultura classica e anche alla grandezza di roma magari esaltando questa repubblica romana il console che sarebbe abbiamo detto la massima magistratura dei romani senza tener conto di quanto ormai gli storici gli studiosi hanno appurato cioè di come questa repubblica romana in realtà fosse oligarchica quindi nelle mani di poche famiglie il console dice parla il console parla questo massimo magistrato scelto dal popolo per governare il comune però magari in epoca medievale ognuno il voto di ciascuno valeva quanto il voto degli altri forse non sempre in epoca romana invece con un sistema abbastanza complicato erano comunque le prime classi sociali a decidere chi doveva essere eletto console il 99% delle volte il console dice e poste apria le mani sopra i santi segnacoli cristiani quindi parla il console e intanto ha posto le mani sopra i segni cristiani della croce e del vangelo ecco è molto interessante anche questo perché l'abbiamo già detto era un laicista era un anticlericale Giosuè Carducci ma qui ci presenta un comune idealizzato medievale senza tacere insomma quelli che quelli che erano anche i segni che rappresentavano e che favorivano l'unione della comunità ecco io parto fra voi quella foresta da beti e pini ove al confin nereggia ecco io divido fra di voi quella foresta la foresta di abeti e di pini ove al confin nereggia cioè là dove si confonde all'orizzonte è talmente oscuro lì all'orizzonte che non si intravede bene chiaramente laddove è il confine insomma il console amministra saggiamente la comunità e stabilisce quelli che sono i limiti e i confini della proprietà e nessuno ha niente da dire anzi tutti si adeguano alle decisioni del massimo magistrato perché l'hanno eletto l'hanno scelto loro ecco un po' in buona sostanza il messaggio ideologico che vuole passare Giosuè Carducci quello anche di un afflato quasi quasi democratico repubblicano Giosuè Carducci abbiamo detto era un risorgimentale che aveva condiviso con molti addirittura forse un sogno pensate nel sogno mazziniano diciamo così di una repubblica dopodiché si adegua a quello che invece è stato il corso degli eventi e quindi la nascita del regno d'Italia non senza qualche delusione ecco come tutti quelli che erano della sua generazione e videro che il progetto si realizzò non esattamente nei modi in cui l'avevano immaginato e voi trarrete la munghiante greggia e la belante a quelle cime l'ha ecco quindi l'indicazione che viene dal massimo magistrato è quella di proseguire a lavorare a svolgere le attività in particolar modo quelle legate alla pastorizia all'allevamento che sono quelle tipiche della comunità a cui lui è a capo e quindi voi si intende voi cittadini dovete continuare a portare lì la munghiante greggia cioè si intende la mandria dei buoi insomma la schiera dei buoi che mugghia e la belante e invece quella delle pecore fino a quelle cime là ecco la carne abbiamo detto il friuli dalla valle insomma si possono vedere sicuramente in friuli tante bellissime alte montagne e voi se l'unno o se lo slavo invade eccovi o figli l'aste ecco le spade morrete per la nostra libertà poche sono le leggi le regole che il console riesce a sintetizzare con pochissime parole riguardo la suddivisione del territorio parto fra voi quella foresta cioè la divido quella foresta poi riguardo all'economia quindi all'attività cui devono attendere i cittadini tra rete la mughiante greggia e la belante e anche quello che riguarda la difesa del territorio quindi la difesa del comune dalle minacce straniere e voi se l'unno o se lo slavo invade abbiamo detto che ci troviamo in quei territori che sono più o meno al confine nord orientale della penisola italiana da quelle zone infatti erano passati erano entrati in Italia soprattutto gli unni che l'avevano anche invasa si può dire l'Italia almeno per una certa parte del territorio e poi erano stati invece diciamo ridimensionati o se lo slavo invade gli slavi da sempre sono una minaccia presso quei confini nord orientali eccovi o figli l'aste ecco le spade a questo punto voi dovete imbracciare le lance le aste sarebbero le lance e le spade morrete per la nostra libertà darete la vita per garantire la libertà del nostro comune della nostra comunità se per caso qualcuno unni e slavi che nel medioevo minacciavano i confini orientali dell'Italia viene a tentare di invadere il nostro territorio un fremito d'orgoglio impieva i petti ergea le bionde teste a questo punto chi sta ascoltando il discorso il sermone del console è tutto infervorato dell'orgoglio insomma di partecipare a questa comunità ergea le bionde teste come vedete anche quasi quasi da un punto di vista anche dell'immaginario collettivo questi questi uomini insomma del medioevo sono rappresentati in un modo appunto abbiamo detto fiero riempiva i petti riusciva quindi a coinvolgerli e anche in un modo idealizzato come spesso avviene con le persone che hanno i capelli biondi e degli eletti in sulle fronti il sole grande feriva cioè il sole grande perché è mezzogiorno abbiamo detto che infatti era finita la funzione religiosa quindi dopo la fine di questa messa il console aveva arringato diciamo aveva insomma iniziato il suo discorso ai suoi concittadini il sole grande dicevamo colpiva le fronti dei giovani più robusti sulle fronti degli eletti i giovani più robusti sono quelli scelti appunto per combattere contro i nemici contro i potenziali invasori che possono difendere la libertà del comune dagli attacchi stranieri il sole già alto colpiva le fronti di quelli che erano stati scelti ma le donne piangendo sotto i veli invocavano la madre alma dei cieli ma le donne invece piangendo perché timorose che poi i loro uomini non sarebbero ritornati dopo questa guerra di difesa ecco attenzione non una guerra di espansione contro i nemici sotto i veli perché coperte insomma da un velo come spesso avveniva per le donne di paese le donne religiose invocavano la madre alma dei cieli invocavano la madonna alma perché salvatrice sappiamo infatti questo è uno dei tanti latinismi che è presente in questa poesia con la mano tesa il console seguiva a questo punto il console con la mano tesa proseguiva il suo discorso cioè continuava a parlare questo al nome di Cristo e di Maria ordino e voglio che nel popolo sia questo insomma è quello che io chiedo che avvenga in questo popolo nel nome di Cristo e di Maria ritorna col discorso di cui abbiamo parlato prima insomma cioè diciamo questa la religione intesa però in un senso civile come elemento aggregatore della comunità con tutti e anche gli aspetti che tradizionali ecco e quindi anche con quelle figure delle di Cristo e della Madonna da venerare per visto anche con la madre alma dei cieli a man levata il popolo dicea sì a questo punto il popolo levando la mano in segno di giuramento acconsentiva a quanto aveva detto cioè mostrava il suo assenso a quanto proposto dal console e le rosse giovenche sul prato vedeam passare il piccolo senato brillando sugli abeti il mezzodì a questo punto le le mucche le rosse mucche lì sul prato vedono passare il piccolo senato abbiamo già visto abbiamo parlato già di questa idealizzazione il console il senato idealizzazione della repubblica romana piccolo però perché si tratta tutto sommato di una comunità di un'assemblea ecco di popolo ma è indubbio che questo termine rimanda all'antica Roma repubblicana e il comune medievale così come lo concepisce Giosuè Carducci sembra quasi la reincarnazione di questa grandezza del passato di questa repubblica romana idealizzata qui abbiamo quindi insieme la retorica e quindi anche l'idealizzazione del passato il piccolo senato il console eccetera ma anche il il clima quasi idillico il paesaggio particolare insomma in cui si immerge questa questa scena sul prato le rosse giovenche brillando sugli abeti con gli abeti era iniziata questa poesia verso prima vi ricordate i faggi e gli abeti e sugli abeti termina anche questa poesia perché il 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 sole brilla sugli abeti quindi appunto su queste piante il a mezzogiorno quindi mentre brillava il sole a mezzogiorno insomma vediamo un grande mescolarsi di fantasia idealizzazione e storia tanto che qualcuno ha addirittura parlato di una messa in stile quiche per esempio uno storico ha proprio parlato in questo in questo modo di questo medioevo di cartapesta una sorta di allestimento teatrale più che rievocazione storica insomma le bionde teste illuminate dal sole le donne che piangono sotto i veli le mani alzate riprendono una moda figurativa corrente nell'epoca riscontrabile nella pittura di soggetto storico e negli allestimenti teatrali ecco stavamo dicendo c'è la fantasia da una parte c'è la storia la fantasia ci porta a immaginare il passato come lo vogliamo noi come se fosse quasi un sogno no? e il passato viene trasfigurato viene come abbiamo detto idealizzato ed è probabilmente molto lontano da quello che era la realtà dei fatti sia il medioevo sia l'età romana c'è di fondo però un rito che è un rito sicuramente più civile abbiamo detto religione civile laicismo ecco questo è ciò che caratterizza l'ideologia di Carducci una sorta di rito collettivo una solennità meccanicità dei gesti formalizzati ripetuti il console che pone le mani sui simboli della religione che divide i compiti degli uomini quindi ad esempio di chi è destinato a lavorare per esempio a portare al pascolo le greggi e di chi invece è destinato scelto a difendere la comunità dagli assalti dei nemici tutti approvano giurando comunque tutti dicono di sì a man levata il popolo diceva è una sorta quindi di rappresentazione di un popolo anche questo idealizzato infatti interessa Carducci descrivere le virtù civili all'opera nella piccola repubblica comunale esplicitamente paragonata alla repubblica romana antica anche se come abbiamo già spiegato la realtà probabilmente è completamente diversa da come ce la descrive e Giosuè Carducci bene è arrivato il momento di leggere i commenti che avete scritto su youtube ah ecco sì Melvin sì per sbaglio avevo lasciato due titoli coincidenti e l'altrieri delle mie serate perché c'è stato uno slittamento e questa insomma è la live che avevo originalmente effettivamente pensato di fare due giorni fa ricordo che l'idillio lo studiai con Leopardi cosa si intende esattamente per idillio beh l'idillio leopardiano è una cosa completamente diversa cioè la rappresentazione di un'esperienza personale spesso tutt'altro che idillica cioè tutt'altro che piacevole o serena perché idillio è alla luna dove si parla del pianto idillio e anche i piccoli idilli sono per esempio l'infinito e poi ci sono i grandi idilli e in quel caso in un certo senso la parola idillio sta a indicare semplicemente un rimandare alla letteratura classica senza che ci sia nulla di idillico perché in realtà l'idillio è nato con Teocrito che era un poeta greco che intendeva rappresentare nelle sue poesie scene pastorali quindi di un ambiente naturale incontaminato in cui gli unici protagonisti umani sono appunto i pastori piuttosto che altri esseri mitologici quali possono essere fauni oppure ninfe che popolano queste poesie di Teocrito Virgilio è stato quello che ha diffuso soprattutto nella letteratura latina l'idillio quanto meno era già diffuso da parecchio questa forma di poesia è stato quello che nelle bucoliche è riuscito a raggiungere i livelli più alti di poesia idillica dopodiché l'idillio è ritornato insieme all'Alcadia cui è legato perché l'Alcadia è un luogo idillico per eccellenza cioè una regione centrale del Peloponneso appunto popolata da pastori e ninfe è sicuramente stato qualcosa che ha avuto grande successo nei secoli tra il 500 il 600 e anche il 700 dopodiché nell'800 è stato come abbiamo spiegato interpretato in una maniera molto molto originale da da Leopardi qui invece intendevo dire semplicemente questo che l'ambientazione naturale è molto suggestiva è quella di un prato avete visto d'insulprato dove pascolano le greggi quindi sia mucche sia pecore e che fa da sfondo se vogliamo a questo povero piccolo paese a questa piccola comunità che ha come suo centro anche la chiesa intesa però ripeto sempre in quel senso più civile che non religioso perché così anche i romani intendevano la religione come un fattore aggregante della comunità piuttosto che come espressione di un vero e proprio sentimento religioso c'è molta retorica se vogliamo quindi in questa poesia una certa ingenuità ideologica i giovani soldati sono orgogliosi del loro compito le donne piangono invocano la madonna insomma un mondo se vogliamo un po' inventato fantastico astratto lontano dalla realtà storica del medioevo lontano anche dalla realtà storica dell'ottocento in cui vive Carducci forse è appunto qualcosa di idealizzato che però a noi piace molto perché la rappresentazione di sogni di aspirazioni ad esempio abbiamo detto le aspirazioni alla democrazia che per noi sono molto molto significative la poesia si conclude con il tocco paesistico di insulperato la rappresentazione di un animale umile le giovenche le rosse giovenche secondo uno schema che si ritrova in molte altre delle rime nuove si veda per esempio l'asino nel finale di davanti sanguito i cipressi di bolgari eccetera troviamo appunto l'asino quindi spesso sono presenti nelle poesie di Carducci anche questi animali miti quieti che in questo caso rappresentano forse qualcosa in idealizzazione di quelli che sono dicevamo ciò che di quello che è ciò che vagheggia a Giosuio Carducci cioè quello che lui desidera il sogno di una vita solare di una vita a contatto con la natura di una comunità in pace dignitosa ma nello stesso tempo anche orgogliosa come appunto questa di questa piccola comunità di paese con vesti modeste ma con alti ideali alti valori il senato è piccolo se vogliamo qua appunto per via di questa assemblea di questa comunità così ristretta probabilmente anche da un punto di vista numerico ma in realtà rappresenta tutte le virtù civili e guerriere che sono per Giosuio Carducci alla base di un popolo e magari sono anche il prodromo ad una visione democratica della vita in cui tutti possono prendere parola e possano dare il loro contributo per il bene della comunità Ermo Colle solitario c'è Erma anche in questa poesia di Carducci di Carducci di Carducci di Carducci Grazie a tutti